Sono Pia Maino Uccelli, sono Don Giorgio Colombo, mi chiamo Ferrario Luigi, sono Giorgio Bagliani, sono Natale Pierin, sono Marco Garzogno. L'8 settembre è stato il crollo finale dell'Italia e l'inizio dell'occupazione tedesca. Solo nascondendosi si poteva pensare di salvare il numero più alto possibile di soldati. Don Giovanni fu arrestato, sapevano che lui era uno degli esponenti più prestigiosi delle fiamme verdi. Il primo salvataggio è stato il salvataggio di una famiglia ebrea. Erano ricercati perché ebrei e io ho proposto di fare una gita al lago Demet. Era una passeggiata per noi, ma la Svizzera è stato per loro il salvataggio. Erano ricercati per noi, ma la Svizzera è stato per loro il salvataggio. Erano ricercati per noi, ma la Svizzera è stato per loro il salvataggio.